Poi è nato anche il contatto con le altre associazioni piloti, perché a me interessava che noi facessimo le cose non soltanto secondo i nostri desideri, ma confrontandosi con quelle che erano le cose realizzate dalle associazioni piloti avanzate, come quelle americane, come quelle inglesi, e devo dire anche come quella tedesca, perché i tedeschi sono nati dopo, però si sono disciplinati meglio anche prima. E da questo abbiamo ricavato molti aiuti nel formulare queste nostre proposte, queste nostre condizioni. E anche in questo il contatto con le altre associazioni. Noi abbiamo, e qui torno al mio consiglio, al consiglio a cui io appartenevo, la costituzione di Europilot. E' stata fondata l'associazione di piloti europei, che comprendeva Alitalia, Nostanza, KLM, Sabena, un'altra adesso non mi ricordo. E abbiamo fatto un coordinamento per avere un'informità di impiego e di contratti. E' nata in particolare perché l'Alitalia, con le compagnie europee, aveva fondato l'Air Union. L'Union, l'associazione di queste compagnie che ho nominato prima, che si gestivano perché l'arrivo dei reattori, che costavano molto, creavano dei problemi economici delle singole compagnie. Allora il coordinarsi nel fare le linee e nello sviluppo di un settore piuttosto che un altro, era un po' coordinato da questa associazione, da questa Union, che era l'arrivo delle compagnie di questo gruppo. E quindi noi abbiamo fatto l'associazione di piloti europei, proprio per restare nello stesso ambito, e siamo cresciuti, abbiamo fatto una, fondata anche noi in associazioni, una rivista chiamata Europilot, che era il mezzo di collegamento fra il Consiglio e gli associati per informarli delle cose che succedevano, che potevano interessare sia sul piano normativo, sia sul piano operativo, sia sul piano di politica generale dell'associazione, su quello che succedeva nel nostro ambito, nel nostro lavoro. Ed è nato nel 1959, quando avevamo organizzato a Roma la conferenza di Falpa, la conferenza di Falpa è una riunione, tutte le associazioni piloti del mondo si riuniscono, i rappresentanti, per verificare la politica e stabilire la politica delle associazioni a livello mondiale. E quindi questo ci ha dato molto prestigio anche come associazione, perché Roma ha un fascino sempre per tutti, quindi la gente in Roma si trova bene, stava bene, noi gli abbiamo dato un'accoglienza adeguata, e l'organizzazione anche dei lavori è stata ben fatta, per cui abbiamo avuto un grande riscontro, un grande successo. E quindi siamo sempre stati abbastanza attivi in questo campo, perché parlo sempre del Consiglio in particolare, perché il Consiglio era quella di più di buona volontà che si riunivano per gestire l'associazione, insomma come succedeva anche adesso, suppongo, chi viene eletto, viene eletto perché si pensa che si è in grado di portare dei contributi. E quindi abbiamo potuto seguire lo sviluppo anche dell'associazione a livello europeo molto bene. Per l'arrivo del reattore abbiamo fatto un gruppo di studio nell'ambito dell'IFARPA a Roma, dove c'erano i piloti israeliani, c'erano anche loro, e quindi abbiamo preparato quelle che sono state poi le base delle richieste per l'utilizzo del DC-8. Però c'era anche il Caravelle che entrava e il DC-9. Con l'arrivo del reattore abbiamo messo una disciplina in questo senso.